teatro gobetti 31 gennaio 5 febbraio repliche accessibili con sovrattitoli in inglese italiano e italiano semplificato audio introduzione e tour tattile otello al teatro gobetti va in scena lo spettacolo otello di william shakespeare con la regia di iuri ferrini le repliche dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023 saranno accessibili tramite sovratitolazione in inglese in italiano e in italiano semplificato su smart glasses e smartphone forniti dal teatro e tramite audio introduzione il tour tattile si terrà venerdì 3 febbraio alle ore 18 lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari martedì giovedì e sabato ore 19 e 30 mercoledì e venerdì ore 20 e 45 domenica ore 15 e 30 la durata è di 2 ore e 20 minuti senza intervallo trama e personaggi otello è una celebre tragedia di william shakespeare messa in scena per la prima volta nel 1604 a londra questa versione è adattata da iuri ferrini che ne cura la regia ed interpreta otello shakespeare mette in scena l'amore tra il moro otello condottiero militare della repubblica di venezia e desdemona figlia del senatore brabanzio i due giovani si amano profondamente contro tutti i pregiudizi di una società ancora fortemente razzista e si sono sposati in segreto per evitare il rifiuto del padre di lei il sottotenente di otello iago lo odia perché ha scelto cassio come luogotenente e si vuole inoltre vendicare delle malelingue sul suo conto che lo vorrebbero tradito dalla moglie emilia decide quindi di architettare un piano per separare otello ed esdemona durante una missione militare a cipro iago trama contro otello sfruttando l'ingenuità e la cipro iago insinua così in otello il dubbio che desdemona lo tradisca con il luogotenente cassio e quel dubbio penetra sempre più profondamente nella mente del protagonista fino a condurlo verso la gelosia folle e omicida il groviglio di sentimenti che tormenta il protagonista è il risultato dello scontro tra forze del puro amore di cui desdemona è il simbolo e quelle dell'odio più profondo di cui è invece simbolo in questa tragedia si intrecciano i temi ancora attuali della diversità della discriminazione e dell'intolleranza scene e costumi la scenografia è spoglia e prevalentemente scura quattro pedane nere di altezze e lunghezze diverse formano due grandi rampe che occupano quasi interamente la scena sul lato destro si trova un microfono ad asta quando la vicenda si sposta a cipro sul fondale nero vengono proiettate l'ombra di un paesaggio naturale di rocce e alberi il sole e la luna ad indicare il passaggio dal giorno alla notte le musiche dei dors e i costumi rimandano agli anni sessanta e alla guerra in vietnam ufficiali tenenti e soldati vestono divise e vestiti militari giacche e pantaloni in diverse tonalità di verde e anfibi neri otello è vestito tutto di nero con un cappotto di pelle lungo fino alle caviglie il lato sinistro del suo viso è dipinto con tre linee nere dalla fronte alla guancia passando sopra l'occhio desdemona ed emilia indossano colori chiari desdemona un vestito bianco corto davanti e lungo dietro mentre emilia una gonna verde lunga con uno spacco laterale entrambe portano su un fianco un fazzoletto quello di desdemona è nero con fragole ricamate e quello di emilia bianco brabanzio e suo fratello graziano essendo veterani di guerra sono in abiti civili e su sedia a rotelle con entrambe le gambe amputate a livello del ginocchio autore e regista william shakespeare nasce nel 1564 ed è considerato il più importante drammaturgo inglese del periodo elisabettiano le sue opere teatrali sono state tradotte in tutte le lingue del mondo fra le più celebri romeo e giulietta amleto e sogno di una notte di mezza estate i suoi testi sono caratterizzati da un complesso intreccio dei personaggi una poetica raffinata e un'acuta profondità filosofica iuri ferrini nasce a napoli nel 1970 ma cresce a ovada attore e regista teatrale formatosi alla scuola di recitazione del teatro stabile di genova nel 1997 fonda la compagnia teatrale indipendente progetto urt nel corso della sua carriera ha collaborato con registi di fama internazionale e ha lavorato per diversi spettacoli del teatro stabile di torino dal 2016 dirige la shakespeare school una scuola di perfezionamento per attori con sede a moncalieri info prenotazioni e biglietti per ricevere maggiori informazioni su orari prezzi modalità di accesso e per prenotare la partecipazione ai tour tattili contattaci all'indirizzo accessibilità chiocciola teatro stabile torino punto it o al numero 0 11 5 1 6 9 4 6 0 per organizzare al meglio la tua accoglienza ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti contattandoci e specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria chiocciola teatro stabile torino punto it o al numero 0 11 5 1 6 9 5 5 5 5 le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e in caso di necessità l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio quindi Grazie a tutti